buonasera eccomi qua allora questa sera sono qui per parlare di alcuni percorsi che io sto per far partire sia a livello di corsi in presenza che a livello di corsi online allora stiamo parlando degli ambiti di cui mi occupo io perché non mi conoscesse io sono donatella Bartolomei e mi occupo di tutta una rosa di materie artistiche creative e di sviluppo evoluzione crescita personale sviluppo della creatività tramite sempre il linguaggio artistico il linguaggio espressivo e creativo i miei corsi vanno da più consueti e tradizionali corsi di canto di tecnica vocale di dizione e tecnica vocale anche del parlato di lettura ad altavoce corsi di teatro anche se i miei corsi poi in realtà non sono mai quadrati e convenzionali però queste materie diciamo sono più consuete a corsi di teatro più sperimentali a corsi di canto più sperimentali come i corsi di sperimentazione vocale a percorsi di sperimentazione e vocale e teatrale fino a lavori in cui la teatralità la musicalità il linguaggio creativo e linguaggio simbolico vengono in qualche modo proposti a scopo evolutivo diciamo così per sintetizzare oppure più semplicemente alla ricerca di quelli che possono essere i propri talenti e una maggiore armonia e rilassatezza eh personale ecco impariamo a non prenderci troppo sul serio impariamo a giocare con noi stessi in modo costruttivo e non banalizzante eh tutti questi percorsi io li propongo sia in presenza che che online in questo momento che cosa sto proponendo nello specifico presente parliamo di gennaio duemilaventidue gennaio duemilaventidue io sto per proporre ehm presso l'istituto Brera Brera eh musica danza e arti libere di Novara eh teatro lab che cos'è teatro lab teatro lab è un ciclo di seminari eh teatrali che io propongo singolarmente ovvero eh chi fosse interessato non è mh obbligato così non è richiesto eh il seguire tutto un percorso eh che può durare dei mesi se non tutto un anno scolastico come già proposto ma si tratta di seminari singoli cioè di appuntamenti singoli una persona può partecipare ad un unico di questi stage e poi decidere che non seguirà nessuno stage successivo eh sono seminari per adulti seminari di teatro lavoriamo su noi stessi teatro come lavoro su di sé lavoriamo sul corpo sulla voce sull'espressività di ognuno di noi lavoriamo sull'improvviso mediante cioè come mezzo un grande mezzo di lavoro che io utilizzo è sempre anche l'improvvisazione teatrale e tante altre cose che verranno presentate nello specifico a chi è interessato si tratta di domenica ventitré gennaio le iscrizioni però si fanno anticipatamente ovvero si chiudono eh il giorno ventuno entro il ventuno bisogna iscriversi necessariamente perché se non si raggiunge il numero minimo di partecipanti richiesti ovviamente la il seminario non non avrà luogo un altro altri due corsi che invece sto proponendo adesso online quindi tramite piattaforma virtuale e che sono dei corsi brevi quindi dei pacchetti di poche lezioni che poi chi vorrà potrà proseguire e portare avanti nel tempo e chi non vorrà avrà usufruito di questi pacchetti anche tra l'altro particolarmente economici sono lettura ad altavoce la bellezza della narrazione è un corso di lettura ad altavoce edizione e tecnica vocale per gli amanti della lettura per gli amanti della narrazione lavorando sempre su due aspetti sia l'aspetto tecnico che l'aspetto creativo della narrazione eh altro corso invece differente è ehm i tarocchi creativi i tarocchi creativi che è un un percorso online di poche lezioni tratto dai miei laboratori di teatro e tarocchi in cui il linguaggio degli arcani linguaggio dell'archetipo veniva lavorato col corpo con la rappresentazione con la drammatizzazione col vestire con l'indossare in qualche modo il linguaggio archetipico anche proprio col proprio corpo e eh con l'espressività eh artistica eh però fisica in questo modo questo è trasferito in un lavoro online che è un po' diverso anche perché si tratta di piccoli pacchetti in cui analizzeremo i simboli dei tarocchi e non solo i tarocchi anche di altri sistemi simbolici eh che che non sono tarocchi che vi presenterò eh ma per cosa non tanto a scopo eh divinatorio quanto a scopo introspettivo a scopo di eh analisi e lavoro su di sé meditazione su se stessi sul mondo e e sulla propria vita sulla propria esistenza è un lavoro comunque molto divertente molto creativo anche questo in questo momento lo propongo come corso breve online e poi chi vorrà potrà proseguire chi non vorrà si potrà fermare lì eh ovviamente sono sempre possibili i miei corsi di canto a livello individuale e di piccoli gruppi mh eccetera ci sono più sedi possibili nonché sempre anche la formula online che nei tempi odierni ha preso abbastanza piede per più motivi eh e poi vabbè ci sono tutti gli altri percorsi da me proposti ma per ora mi fermo qui e centro l'attenzione su il laboratorio teatrale di Brera Teatro Lab a Novara i due corsi online di lettura d'altavoce e di eh i tarocchi e altri sistemi simbolici e mh e tutti i percorsi di canto possibili sia a livello eh personale eh in varie sedi sia a livello virtuali resto a disposizione è possibile contattarmi al mio numero di telefono alla mia mail o tramite la mia pagina Facebook su Messenger o tramite Telegram WhatsApp eccetera eccetera per avere tutti i dettagli e tutte le informazioni del caso va bene io ringrazio saluti da Donatella Bartolomeo Grazie mille